Animali animali benvenuti in questo nuovo video sono successe un po' di cose strane Ma vabbè è la mia vita quindi tutto è strano vorrei che mi consigliasse nei commenti qualche video particolare Che avete visto magari in giro per il web che ancora non ho fatto e che potrei appunto riproporre in questa caldissima estate Se avete qualche idea scrivetemi nei commenti ora vi lascio il video e buona visione Ciao a tutti ragazzi e ragazze sono anima e bentornati in questo nuovo video oggi siamo tornati qua in un nuovo vlog molto interessante Faccio la stupida parte sapete benissimo che sono tornato dall'america ma non vi ho raccontato cosa è successo Perché voi vedete i video ma ciò che non è stato registrato con la telecamera che possono essere sia cose belle che cose brutte Non le sapete e che quindi vi volevo far vedere tra l'altro tutto qua sotto proprio Tutte le cose che ho comprato che ho vinto magari poi vi faccio vedere tutto insieme Ma partiamo dal primo giorno che siamo arrivati proprio lì Siamo atterrati con l'aereo tra l'altro poi fatemi sapere anche voi nei commenti come state passando le vacanze Se avete avuto dei momenti un po' brutti Spero di no Comunque siamo atterrati a Los Angeles e io avevo appunto gli euro da cambiare Quindi io mi volevo dissetare e comprare qualcosa Ho detto vabbè visto che non c'è un negozio che cambia i soldi Andiamo a ritirare direttamente con la carta 100 dollari così le avevo e potevo spendere almeno quel primo giorno Per appunto le cose necessarie Vabbè io mi compro la mia mountain view, mi compro la mia carne secca Insomma è un anno che non la potevo mangiare Vi giuro ne avrei preso un quintale così tipo una balla di fieno e me l'avrei portata al prossimo evento Ma non me l'avrebbero mai fatto portare tutto quel cibo lì Tutte le volte che vado in America torno con 5 kg di più ma sono felice Insomma tutto contento e soddisfatto andiamo nella prima casa e passa un altro giorno Ok si registra, si gira Il secondo giorno terzo in base all'orario che era lì Mi chiama la banca e mi dice Signor Burci sì, lei ha per caso ritirato dei soldi ieri sera a questo ATM Lì si chiamano ATM Quindi a questo banco matta alle ore tot sbagliando il PIN L'ho detto no, io ci ho ritirato il primo giorno che sono arrivato con l'aereo, ho preso 100 dollari Poi io in aeroporto non ci sono più andato Guardi allora mi sa che le hanno clonato la carta di credito Io ero tipo cosa? Calcolate che eravamo in questo tavolo rettangolare Stefano davanti che editava assurri da una parte E lo zio di Fabij di qua Io ero così come se mi fosse morto un familiare Guardo tutti Ma che è successo? Io ignoro, continuo, cerco di capire cosa è successo Mi faccio ma, cioè, ne è proprio sicuro Eh sì, guardi, fortunatamente non sono riusciti a rubare i soldi perché hanno sbagliato il PIN Meno male, almeno quello Quindi che cosa devo fare? Procedo al blocco della carta perché al 90% gli hanno clonata E io gli ho fatto sì sì sì, blocca subito Io meno male che avevo i soldi in carta da parte perché sennò non stavo come passare due settimane lì Quindi potete capire che ansia il terzo giorno già lì Già bianco come un morto che sono, in più bianco per la paura Ho detto no no, blocca tutto, ser, ranghi E il tizio mi dice Vabbè allora guarda, prendi pure la carta Che questa qua me la sono tenuta ancora ma non è più valida Tagliala e buttala via Quindi io ho voluto portare la carta di credito Cioè proprio qua Per tagliare insieme insomma questa disavventura Quindi insomma per la prima volta nella vita mi hanno cercato di derubare clonandomi una carta Insomma succede spesso però Pensate a quanta gente magari gli hanno clonato la carta o gli hanno fregato soldi Perché alla fine è un ATM dell'aeroporto Cioè quanta gente va a tutti i giorni turisti e persone che ritirano soldi Cioè cose immaginabili Però volevano rubarmi i soldi Non ce l'hanno fatta Guarda che faccia quando hanno visto il pin errato E comunque niente Io sono qua Sono pronto per il taglio insomma Non so se le forbici appunto arrotondate di Giovanni Mucciaccia funzionino però Poi me l'hanno mandato un'altra entro sei giorni direttamente a casa mia però Era a casa mia nonna in America E niente Carta mia Dispiacere Guardate qua Insomma è la prima cosa è andata Quindi fortunatamente posso ritirare con un'altra carta Comunque passato il collasso Vanno avanti altri giorni Fortunatamente succedono solo tante cose belle Andiamo alle tre Che tra l'altro non vi ho alle tre All'e-frame vabbè Insomma alla conferenza dei videogiochi Siamo andati sia da Playstation sia da Xbox Vi devo ancora portare video perché C'è una volta che sono tornato Sapete che non sono stato benissimo Però ho ancora i video Voglio ancora mettere qualche scena Qualche impressione sui giochi Mi sono piaciuti di più Perché insomma Non sono andato soltanto lì per divertirmi Inaspettatamente una sera Proprio YouTube Gaming Ci ha invitato a un party privato Che probabilmente avete già visto dei video E io Stefano e Fabi J Da veri ladri Perché se uno cerca di rubare la carta di credito Ci siamo trasformati anche noi in dei ladri E oltre a dare spettacolo mezzo ubriachi Abbiamo rubato il cuscino di YouTube Che tra l'altro è comodissimo E mi sono tenuto anche come ricordo La appunto il braccialetto Surry mi sa che ce l'abbia di un altro colore Perché lui non poteva neanche entrare Perché lì fino a 21 anni Sai che non si possono servire al college Cioè vabbè Lo volevo lasciare fuori come un cane bastonato Anche qua c'è un bracciale della Playstation Tutte le robe della conferenza Stessa cosa questa dell'Eltro in Cards Il pass è appunto delle tre E poi abbiamo fatto una foto noi mates Tutti insieme Insieme a dei personaggi cosplay di Tekken 7 Ovviamente io non dovevo altro che fare lo scemo E devo dire che quella sera lì ci siamo divertiti Non è stato decisamente noioso Poi successivamente siamo andati in un museo Che però questo museo era all'interno di una porta aerei Che non era più in servizio Infatti c'erano tutti gli aerei di un sacco di epoche E il video ancora non ve l'ho fatto uscire Ma mi sono comprato tipo questi No mi sa che così è il dietro Sembra un preservativo così Decisamente più giusto così Sono comprato questo coso da avviatore Di non so quale epoca E ho preso anche gli occhialini Così sembro Vedo tutto verde Meno male il mio colore Ho detto no questo devo assolutamente comprarlo Così quando faccio del casino me lo metto Ho anche la medaglia di Battlefield Ho dimenticato di farvela vedere Perché abbiamo giocato all'alpha o la beta Insomma di Battlefield 1 Calcolate questa faccia Te da un sacco Non vedevo un gioco così Qualche giorno dopo siamo andati a Disneyland Infatti io ogni posto che visito Che sia abbastanza di rilievo Tengo un piccolo souvenir Questo è il biglietto che ci hanno dato Tranquilli Qui avete il pass illimitato Potete fare tutte le giostre con il pass Noi mica eravamo lì dentro Abbiamo detto meno male perché qua ci sono code da 115 minuti Cioè da più di un'ora Alcune giostre Meno male passiamo davanti a tutti Postate vi ci sono i mates Cosa è successo? Noi siamo arrivati lì davanti alle giostre Cioè con questo pass dovevamo prendere un altro pass E ritornare lì Tra un'ora e un'ora Quindi tra le due del pomeriggio e le tre E lì allora avevamo il fast pass Per fare la cosa veloce Il problema è che questo fast pass Ce l'avevano tutti Cioè tutti andavano a prendere questo fast pass Tornavano dopo un'ora Facevano i loro giri Non so andavano a mangiare Facevano un giro per il parco divertimenti Che io l'ho rinominato parco attesa divertimenti Perché in dieci ore hai fatto cinque giostre E il resto era così da aspettare Insomma questo parco attesa divertimenti Non potevi neanche poi dire Vabbè vado da un'altra giostra Prendo un altro ticket Così poi faccio questo lo faccio alle tre Questo lo faccio alle quattro Nooo Tu dovevi prima usare quel ticket in quella giostra Andare poi a prendere un altro ticket Aspettare un'ora Perché ti dava un'ora avanti Rispetto a quando lo prendevi Cioè vabbè Divertentissimo Disneyland Ma questa cosa dei pass Penso che l'abbiano scelta Tipo 4-5 scimmie Davanti a un tavolo Si lanciavano le noccioline Però comunque ci siamo divertiti Perché non ricordo se era al SeaWorld Perché siamo andati anche al SeaWorld A vedere le orche Gli spettacoli con gli animali Veramente fighissimo Ai Prince Game ovviamente ci dovevamo passare Quindi abbiamo vinto questo Ho vinto questo Stefano ha vinto anche roba abbastanza più grande Ho vinto anche questo draghetto Tutto tema verde E mi hanno dato anche questa maglietta Però questo non so dove me l'hanno data Me la sono trovata in valigio Boh me l'ha rifilata qualcuno Però è carina Poi in qualche altro giorno A caso di shopping Abbiamo vinto Ho comprato così tanta roba Che non ci sta più nella nostra valigia Quindi abbiamo dovuto comprare Che l'ha comprata Stefano Una valigia in più Per riempirla solo di regali Quindi potete capire che macello E io mi sono comprato Il primo pop della mia vita Se si chiamano pop penso Perché io non è che faccio la collezione di ste cose Però l'ho voluto comprare Perché è Flash di Zootropolis E visto che tutti mi dicono Che sono lento E sono sempre in ritardo Quindi ho detto Vabbè allora io mi compro il bradipo Che tra l'altro si chiama Flash 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 100 metri in un flash Insomma questo è il primo pop dall'America E sarà il primo mi sa l'ultimo Però mi piaceva troppo Quindi l'ho dovuto comprare E insomma Poi Siamo andati Al Vidcon E lì Abbiamo Visto Un sacco Di cose Basta mi sono rotto le scatole Infatti questo qua Era il pass Del Vidcon Tra l'altro C'era gente che si divertiva E questa cosa è una cosa in più Lì Più facevi cose Tipo dai il 5 A un Sconosciuto Fai altre cose stupide Potevi attaccare Un sacco di bigliettini in più E poi quando ne avevi un tot Potevi partecipare A un concorso Altre cose Legate Che potevi vincere Anche i monopatteni Quelli elettrici Non i monopatteni Il skateboard elettrici Questa è veramente figa Mi sono tra l'altro Comprato anche la maglietta Di uno youtuber Perché ho chiesto Questo è un brand O è uno youtuber Ma detto È il brand di uno youtuber Quindi un po' come Le nostre magliette mates E ho detto Non posso Essere adulto oggi Quindi ho detto Questa me la devo comprare Subito Sta maglietta Bellissima Però non so Minimamente Chi sia lo youtuber Qui ho scritto nashville Non credo sia uno youtuber Quindi rimarrà un segreto E poi mi sono comprato Il mio primo emoji Che ovviamente Per forza Ho comprato quello Del diavolo viola Con le corna Prendevo quello arrabbiato Quindi ho detto È bello Che bello siete E come ultima E grandissima cosa Noi mates Ci siamo cimentati Nel assomigliare Il più possibile A Tony Hawk Quello che fa sullo skateboard Non ci siamo riusciti Infatti Come potete vedere Ci siamo comprati Tutti e quattro mates Uno skateboard Io mi sono comprato Questo qua Che è un pugnale Forse è meglio Se lo vedete così Un pugnale fatto a skateboard Mi sono fatto mettere Ovviamente Qualcosa di verde In questo caso le ruote Ed è stato divertente Vedere Ma nessuno Ha preso boccate Però è stato divertente Vedere quattro persone Che avevano chiaramente Dei problemi motori Girare con lo skateboard E diciamo che Questa è stata un po' L'avventura Che abbiamo passato Noi a Los Angeles Sono state due settimane Lunghissime Penso che Consiglio mio Due settimane Che le passi Anche con la persona Più importante Della tua vita Siano troppe Cioè secondo me Una vacanza Abbiamo appurato Che sette giorni Sono troppo pochi Quindici giorni Sono troppi Quindi io penso Che una media Giusta Ma di un numero massimo Prima che magari ti stufi Perché poi Gli ultimi giorni Nonostante abbiamo fatto cose Sempre carine Sentivo la nostalgia Che dovevo tornare a casa Non è che mi stavo annoiando Però dicevo Mi manca casa Che poi Non è che Queste quattro mura Hanno qualcosa Di in sé Particolarmente bello Però quando sei troppo Lontano da casa È bello se ci stai poco Quindi ho appurato Che più o meno Nove Dieci giorni La vacanza è perfetta Quindi se voi dovete andare A fare delle vacanze Secondo me Nove Dieci giorni Sono il top A meno che Proprio non andate Al mare E non lo vedete da una vita Allora quello è un altro Un altro paio di maniche Ma una vacanza Lontani da casa Secondo me Nove Dieci giorni È perfetto proprio Infatti mi sa che Le prossime vacanze Se le altre Le vogliono fare più lunghe Possono rimanere loro Io torno Dopo dieci giorni Massimo Quindi questa vacanza E lavoro Di Los Angeles Verrà ricordata Anche un po' Con questo biglietto qua Anche i biglietti Mi li tengo sempre Perché sono Un ricordo Che rimarrà sempre Un po' lì stampato E quindi Animali animali Io spero che questo video Vi sia piaciuto Intanto ho la C'ho la testa Che stava sudando Si stavano prolificando Le zanzare Da quanto era umida La mia testa Può finire qua Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Per aver ascoltato La storia di Los Angeles Cos'è successo Diciamo E Fortunatamente Nessuno mi ha rubato soldi Quindi consiglio Portatevi già i dollari Cambiateli in banca Gli euro In Italia Così Siete tranquilli Che i là Non vi clonano niente Pensa che se clonavano me Lì era un disastro Comunque lasciate un mi piace Per il supporto Che vi ha sempre piacere Noi ci si becca Domani con un nuovo video Stay angry Stay animals Ah Nei commenti Ricordatevi Ditemi delle vostre vacanze Di 10 Ti 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 Ti